Un elemento che differenzia le piastre per capelli è la larghezza della piastra interna riscaldata. Questo perché al variare della misura di questa piastra appunto, cambierà quanto l'apparecchio adeguato a capelli medio-lunghi, medi o molto lunghi e anche quanto velocemente questi verranno stirati. Qui vedete tre esempi diversi, vediamo nel dettaglio. Questa è una piastra dalla larghezza di 2,5 centimetri che è quella più diffusa in commercio, non proprio ideale per capelli molto lunghi. Questa invece in posizione media è una piastra che ha delle piastre larghe 3,5 centimetri, quindi molto buone per stirare capelli medi, medio-lunghi e anche lunghi. Questa qui invece è una tra le piastre più larghe che troviamo in commercio e misura infatti 4,5 centimetri ed è sicuramente la scelta ideale per chi abbia capelli lunghi o molto lunghi.